Tra i temi centrali di cui si è parlato qui a Mogliano Veneto in occasione del settimo seminario che riunisce esperti delle istituzioni, l'AIFA innanzitutto, ma anche di società scientifiche, associazioni di pazienti e prese farmaceutiche, ci sono i rapporti tra l'AIFA e queste ultime, cioè le aziende farmaceutiche. Noi ne parliamo con Walter Marrocco che fa parte della commissione scientifica ed economica dell'AIFA. Dottor Marrocco, lei tra i tavoli di lavoro che ci sono qui nel seminario di Mogliano Veneto si è occupato in maniera particolare di quello tra i rapporti tra l'AIFA e le aziende farmaceutiche. Quali sono i temi sul tappeto? Cosa chiedono le aziende e l'AIFA? Che posizione ha su questi temi? Sostanzialmente le aziende propongono una migliore comunicazione, una maggiore comunicazione con l'agenzia che poi è lo strumento alla base di tutto quello che può essere la trasmissione di conoscenze, da parte delle aziende verso l'agenzia, quelle espertise che comunque le aziende hanno. Contemporaneamente poter ottenere anche da AIFA quelle indicazioni di percorsi che vanno assolutamente poi garantiti affinché la valutazione sia più strutturata e più organizzata anche a monte. Un po' come fa l'FDA con le aziende farmaceutiche americane in cui i dati del dossier vengono condivisi prima del deposito vero e proprio in modo tale che se ci sono delle incompletezze o ci sono comunque dei dati che vanno approfonditi lo si sa prima. È un po' questo l'approccio a cui si vorrebbe tendere anche qui da noi? Ma io credo che sostanzialmente si vorrebbe tendere a condividere quale sarà il percorso di valutazione in modo tale che le aziende possano presentare delle informazioni e dei dati su cui poi sanno che verranno poi valutate. Questo in linea di massima ovviamente. Poi c'è tutto quello che le aziende vorranno presentare a prescindere che verrà comunque valutato. Ma fare in modo che la valutazione, la sottomissione del dossier sia anche in qualche modo costruito insieme permette di evitare che all'agenzia arrivino informazioni qualche volta fatte in modo estemporaneo e che poi non vanno a soddisfare le esigenze valutative e che richiedono ovviamente un'interazione successiva con andata e ritorno tra l'agenzia e le aziende che fa comunque perdere tempo. Ecco, le sembra una posizione ragionevole quella delle aziende? Ma io credo sostanzialmente di sì e probabilmente è anche una proposta che se messa adeguatamente a sistema potrebbe migliorare il ruolo di Italia come paese in generale, compreso anche dell'agenzia a livello europeo. Dottor Marrocco, lei non è nuovo qui ai seminari di Mogliano Veneto, ne hai visti già diversi, come si sono evoluti nel corso del tempo e in generale qual è il giudizio di Mogliano? Vero, ci ritorna sempre volentieri oppure un po' un dovere cui bisogna sottostare? Vengo e ritorno più che vengo a Mogliano Veneto con molta soddisfazione e con molto piacere perché è l'opportunità, dà l'opportunità di un confronto fra i vari stakeholder tra le aziende e anche l'agenzia regolatoria e non solo per una discussione di cui noi sentiamo assolutamente la necessità. Il modello organizzativo poi è particolarmente efficace perché i gruppi di lavoro sui vari temi che vengono individuati mette a confronto in modo pratico e concreto le varie realtà per una proposta che poi viene fatta in assemblea e discussa da tutti. La formula direi che è perfetta. Insomma imparano un po' tutti, si può dire così? Io sicuramente, ma anche credo gli altri.